Come opposizione abbiamo presentato due emozioni che intendono coinvolgere maggiormente i giovani nella vita sociale e politica della nostra comunità. In sostanza un incentivo alla cittadinanza attiva che però non vuole essere una dichiarazione retorica. Quindi innanzitutto l'idea è quella di recuperare un istituto che esisteva ma è rimasto inattivo per diversi anni, ovvero la consulta giovanile che vuole essere uno spazio vero, concreto, in cui i ragazzi e le ragazze che hanno un'età compresa tra i 15 e i 25 anni possano esprimere i propri bisogni e direi anche i propri sogni sapendo che il Consiglio Comunale poi ascolterà questa voce e ne terrà conto per tutte le scelte che vanno prese nelle politiche, nell'ambito delle politiche giovanili. Inoltre una delle due emozioni intende far nascere una festa della cittadinanza che sia una celebrazione simbolica del passaggio alla maggior età, quindi al pieno esercizio della cittadinanza attiva, che si vuole il più possibile attiva. La data che proponiamo è simbolica, è quella del 25 aprile, per ricordare i tanti giovani che hanno dato la vita per permettere alle generazioni successive di vivere da cittadini liberi e intendiamo anche ricordare che questa, la nostra, non è solo la cittadinanza dei cittadini italiani, ma che vogliamo esprimere una cittadinanza attiva europea.